I pannelli fonoassorbenti installati lungo il tracciato ferroviario a Montesilvano avevano sollevato le proteste dei cittadini residenti a Villa Verrocchi in quanto ritenuti troppo impattanti. RFI, dopo un sopralluogo tecnico ed un confronto con l'amministrazione comunale, ha colto le loro rimostranze ed ha deciso di sostituirli con altri più bassi e meno impattanti. Sono stati avviati i lavori per la loro sostituzione, ha sottolineato il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis, il quale ha aggiunto che i lavori per il completamento dell'opera andranno avanti sino al 2025. Sì, un progetto datato che prosegue sul nostro territorio e che ben presto verrà ultimato su tutto il territorio di Montesilvano. Negli ultimi giorni in realtà questi lavori che si stanno protraendo hanno suscitato qualche perplessità e anche qualche protesta da parte di una fetta di residenti, ma più che altro non tanto per il lavoro di per sé, che sicuramente sarà positivo per il territorio, ma perché si era pensato di posizionare dei pannelli molto impattanti, non quelli trasparenti che invece rendono sia un servizio da un punto di vista acustico, ma che rendono il territorio meno impattato da un punto di vista visivo. e attraverso un'interlocuzione con RFI si è giunti a una conclusione tale da poter raccontentare appunto questa richiesta e quindi oltre a proseguire i lavori avranno anche un esito favorevole dal punto di vista della cittadinanza. Sul territorio di Montesilvano sono in corso i lavori per l'installazione dei pannelli fonoassorbenti che andranno ad isolare dall'inquinamento acustico oltre due chilometri del tracciato ferroviario da via Perlasca sino al cavalcavia di via Verrotti. L'investimento previsto è di 21 milioni di euro, rientra nella programmazione del primo quadriennio del piano di risanamento acustico di RFI approvato nell'intesa della conferenza unificata a Stato-Regioni del 2024. Sì, sono fondi ministeriali grazie ai quali appunto si sta portando avanti da tempo questo intervento che come dicevo sta andando avanti comunque celermente e si spera si possa arrivare alla conclusione nella prossima annualità.